Salotte 21 del 10 maggio 2024, Tommaso Pina si trova qui al parco San Leonardo, da qui 100 metri inizio il parco San Leonardo. Questa è la stalla da dove provengo, considerando che adesso c'è l'ombra, quindi le vepere almeno qui, sono animali a sangue freddo, quindi a quest'ora non dovrebbe esserci. E percorro questo tratto di sanghiero, anzi qui è decespugliato, però mi conviene assolire qui sopra, ecco qui, il bosco stesso, però io conosco bene il tratto che devo fare, continuo a salire, e qui più avanti, ecco, qui c'è, guardate, qui c'è il sentiero, però da qui osserviamo un bel panorama. Montelacciocca, salire qui è sempre vicino ma è diretto, richiede molto tempo, là ho visto un albortoio, ma con falco.